Mi dici Elena che succede? Dove sei? Tanto sei in un luogo chiuso a questo punto. Scusami Tiziana ma stavo parlando con il parroco, stavamo facendo... Ausiliare. Ausiliare, perché qui incontriamo tante persone che fortunatamente parlano italiano e stavo chiedendo proprio a lui se era preoccupato per la situazione e effettivamente è molto preoccupato, ma dopo ci torneremo. Intanto ti volevo far vedere perché qui siamo nella chiesa di Giovanni Paolo II. Qui Giovanni Paolo II, il Papa, venne nel 2001 e questo luogo è stato attrezzato chiaramente per dare una mano soprattutto al fronte, all'esercito, quindi per mandare medicinali, per mandare tutto ciò che manca, anche l'acqua nelle trincee perché come ben sappiamo ci sono delle zone che l'acqua purtroppo in questo momento non ce l'hanno scarseggia. E poi c'è questa catena che ci riporta a un tempo che è più drammatico di così non si può raccontare. C'è una catena di panini perché le famiglie che arrivano hanno fame e questi panini sono destinati o all'esercito o a famiglie che hanno bambini piccoli da 1 a 5 anni. Questo fa capire com'è la situazione, cioè addirittura si cerca di dare un range d'età perché chiaramente si proteggono i più piccoli, quelli che sono i più fragili e qui ci sono le donne che hanno gli uomini in questo momento, la maggior parte di loro ci raccontano, sono volontari dell'esercito, si stanno arrolando e loro danno il loro contributo in questo sottoscala della chiesa e fanno continuamente panini. Per 12 ore al giorno loro fanno solo questo. Incredibile. Questi sono i minacciosi ucraini la cui è entrata nell'Unione Europea e nella Nato dovevano terrorizzare Putin e che l'hanno costretto a un'operazione... All'operazione militare speciale, non all'attacco. A proposito di attacco Elena, scusami, tu ci hai raccontato prima molto bene e anche con Piglio Coraggioso che è suonato l'allarme per due ore e mezzo questa notte che pure ieri suonava l'allarme, che Leopoli non viene più sentito come luogo sicuro che comincia a crescere una certa preoccupazione ma ieri, se non sbaglio, c'è stato anche un momento in cui voi li avete visti gli aerei me lo racconti bene per favore? Perché l'allarme suona... Allora no... Perché è... diciamo la sirena suona perché è un allarme aereo cioè sta passando un aereo che potrebbe bombardare, non si sa. Elena? Proprio così, noi a un certo punto stavamo tornando da Lusk verso Leopoli sono all'incirca due ore di auto guardando all'orizzonte abbiamo visto un aereo volare sapendo che comunque le linee aeree... Me lo fate vedere perché ci ha mandato le immagini Elena le facciamo vedere per favore intanto che lei ce lo racconta eccole Elena Lo spazio aereo è chiuso per i civili in questo momento quindi non possono volare se non volano mezzi militari ci siamo chiesti chiaramente che cosa stesse accadendo anche perché non riuscivamo bene a capire né se fosse ad esempio al confine con la Polonia non ci riuscivamo ad orientare molto bene e soprattutto chiaramente non potevamo comprendere se fosse un aereo russo un aereo appartenente alla flotta dell'Ucraina o se fosse ad esempio un aereo bielorussio nel frattempo una nostra fonte ci ha chiamato e ci ha detto guardate che oggi è accaduto che alcuni aerei dalla Bielorussia sono entrati in Ucraina per poi riandare in Bielorussia noi lì per lì non abbiamo pensato non è possibile questa notizia perché significa che altrimenti veramente si va verso un cambio di questa guerra cioè si attaccano altri fronti però purtroppo la conferma c'è arrivata che effettivamente questi aerei avevano sorvolato l'Ucraina per poi rientrare in Bielorussia noi non possiamo dire con certezza che fossero quegli aerei però c'era questo movimento che concideva con l'orario e poi abbiamo immediatamente chiamato Leopoli per chiedere se in quel momento stessero suonando le sirene le persone che in quel momento si trovavano a Leopoli ci hanno dato immediatamente la conferma del suono delle sirene e purtroppo la conferma della notizia che è arrivata anche da Kiev e aveva anticipato un attacco addirittura con un orario l'orario erano le 21 che doveva essere la risposta cioè da parte russa si diceva che ci poteva essere un attacco bielorusso come risposta ad un attacco aereo da parte ucraina e c'era stata anche la definizione dell'orario sono quelle che nell'intelligence per chi la segue con passione come me si chiamano operazioni sotto falsa bandiera cioè invece lo fai tu ma ne attribuisci la responsabilità a qualcun altro anche perché per dover l'onestà hanno venivoli dello stesso tipo quindi un MIG-29 Fulcrum quindi come lo distingui? MIG-29 Fulcrum con la bandiera ucraina esattamente lo stesso MIG-29 Fulcrum con la bandiera russa con i 27 flanker la cosa si può fare quello che dobbiamo dire ancora è che mi pare che dal punto di vista politico i bielorussi che è bene però ricordare stanno concedendo alla Russia tutto il territorio nazionale per fare tutte le attività di invasione possibili e immaginabili compreso il lancio di missili compreso il lancio di missili e al momento i bielorussi contro ogni aspettativa io ero assolutamente sicuro e mi sbaglio come tante cose che faccio che i bielorussi sarebbero entrati in Ucraina al momento non mi pare che forse se sono entrati con qualche reparto speciale però fondamentalmente no ci racconta quello che vede quello che succede mi aprite per favore Odessa perché prima diceva